Ciao Massimo Canta di CartaCanta, è una delle tue partite che restano invece da adottare, da fare la comitante in area, hai avuto anche qualche occasione che forse poteva andare meglio, però un gran gol, alla fine una grande gioia, è importante fare già queste partite. Ciao Massimo, ti ringrazio, ma io cerco sempre, ogni minuto che indosso questa maglia, ormai sono forse uno dei più vecchi, di onorarla per il meglio, io faccio il massimo di quello che posso, a volte sono sempre praticato in un gioco solamente a lottare, ma è piaciutare anche molto il calcio, e quindi credo di essere molto migliorato, soprattutto con i piedi negli ultimi 3-4 anni, soprattutto giocando qua il più sintetico. Sì, sono contento perché mi mancava il gol, nonostante fossero solamente due partite come facevo, quindi vivo di quello, però l'importante è che sia valso un gol importante, peccato, ho procurato anche il rigore, è peccato, però pensiamo su tutto da quelli, e quindi pensiamo partita per partita, perché questo deve essere assolutamente il nostro credito.